Grande successo di pubblico, grande successo di partecipazione, un grande successo della Sicilia, della Sicilia bella, della Sicilia che produce, della Sicilia che ha bellezze come quelle nelle quali si trova il parco della salute. Abbiamo il mare di fronte, la Palermo antica e storica dietro, partiamo dalla Sicilia per promuovere il calcio femminile e lo facciamo convinti che avremo un grande risultato. C'è stata una grandissima partecipazione delle scuole che hanno compreso il senso dell'iniziativa che è un senso assolutamente ludico e che serve soprattutto ad abbattere quei pregiudizi che ancora ahimè ci sono soprattutto nelle nostre terre rispetto al calcio femminile. Mi preme sottolineare il binomio che abbiamo messo su insieme alla Col di Retti perché sport e buona alimentazione sono un binomio indissolubile che dobbiamo perseguire sempre e che abbatte poi la spesa sanitaria.